Ciao a tutti amici rosso-azzurri, Sassuolo-Catania 2-1, ero allo stadio, sono rientrato da poco a casa e sono davvero contentissimo per la prestazione dei ragazzi, oggi veramente è una dimostrazione di grande carattere di saper giocare a pallone, oggi veramente eravamo bellissimi, ho giocato benissimo, spensierati, si sono divertiti si vedeva chiaramente che si divertivano, i due terzini che stavano praticamente a centrocampo, concedevamo alcuni contropiedi ma giocavamo veramente perfettamente, abbiamo giocato un calcio bellissimo contro una squadra di Serie A, veramente oggi contentissimo peccato perché passiamo subito in svantaggio dopo neanche un quarto d'ora per un errore gravissimo di Silvestri da lui proprio non me l'aspettavo, però è arrivato questo errore e Matri riesce a segnare poi però verso il quarantesimo reagiamo tutto il primo tempo e nel quarantesimo pareggiamo con un grandissimo gol di Brodic che alla sua prima presenza questa stagione segna veramente un'ottima prestazione da parte di questo ragazzo e poi nel secondo tempo non c'è storia, non vuole dire una banalità ma veramente dominiamo cioè dominiamo il campo, giochiamo solo noi praticamente, loro hanno un'occasione con un tiro da distanza a cui Pisteri risponde abbastanza bene e poi loro riescono a segnare purtroppo su un lancio lungo dove purtroppo la difesa li ha chiaramente dormito ma a tritire e poi sulla ribattuta arriva Manuel Locatelli che la butta dentro peccato veramente perché ero allo stadio veramente ci stavamo tutti chiedendo perché oggi veramente hanno giocato perfettamente, non si può dire veramente nulla vorrei dire dei migliori in campo ma per me tutti praticamente poi posso dire che i migliori sono stati Brodic oggi perché grande personalità prima presenza è soltito così praticamente quest'anno non male direi, un gran gol, grande personalità anche dietro quindi veramente benissimo Brodic Angiulli che giocando in questo ruolo di mezzala gioca molto più liberamente gioca molto più facilmente la palla e soprattutto chi mi è piaciuto veramente tantissimo oggi è stato Baraje Baraje che sulla fascia sinistra veramente infatti la fascia sinistra Brodic, Baraje è stato veramente devastante non faceva passare nessuno, saliva, tornava indietro cioè oggi la parte destra del Sassuolo non ha combinato assolutamente nulla è stato veramente perfetto oggi Baraje, perfetto complimenti a lui veramente l'ho criticato per gli errori che ha fatto inizio anno ma oggi veramente è stato perfetto se devo dare dei peggiori in campo Baricic che anche oggi mi è sembrato un po' confuso, un po' perso non sapeva cosa fare con la palla a tre piedi e poi purtroppo devo dare l'insufficienza a Silvestri perché dopo che fai un errore del genere non posso dare la sufficienza mi dispiace diciamo che da una parte meglio che questo errore sia arrivato in Coppa Italia piuttosto che poi in campionato e perdere altri punti meglio che sia arrivato in Coppa Italia questo gravissimo errore veramente, oggi sono veramente contentissimo sono contentissimo però sono anche diciamo un po' incazzato da una parte perché questo mi fa capire che questa squadra è veramente forte per la categoria in cui gioca, è veramente forte perché c'è, ce la siamo giocato contro una squadra di Serie A che va bene, hanno giocato anche con i rincalzi però alcuni titolari c'erano per esempio Rocatelli e Lemos però anche se hanno incazzato una squadra di rincalzi è comunque una squadra di Serie A che è sicuramente superiore a una squadra media di Lega Pro ma noi ce la siamo veramente giocata ed è questo l'importante era questo l'importante di oggi giocarsi una bella partita questo mi fa incazzare proprio perché mi fa capire non capisco il perché quando poi giochiamo contro le squadre di merda della Lega Pro non riusciamo a fare due passaggi di fila i terzini stanno fermi giochiamo a palla continuamente non attacchiamo nella profondità non creiamo nessuna occasione non giochiamo però poi quando giochiamo contro le squadre di Serie A giochiamo benissimo giochiamo un calcio stupendo ma io veramente non le capisco oggi veramente tutto perfetto l'unica cosa che forse avevo fatto apposito a tir che per oggi la gara l'ha parata perfettamente non gli posso veramente dire nulla l'unica cosa che forse avrei cambiato però poi sono chiaramente decisioni del mister lui ne sa più di me conosce meglio i giocatori li vede tutti i giorni forse avrei provato a mettere Lodi a posto di viaggianti perché comunque verso la fine della partita c'erano parecchi falli parecchi calci piazzati quindi magari il piede di Lodi poteva risultare più decisivo in alcune occasioni però veramente non gli si può dire nulla al mister peccato perché veramente oggi ci ho creduto davvero tanto infatti uscito dallo stadio sono rimasto più deluso perché un Conte se perdi 3-4-0 conto a squadra di Serie A dici vabbè sono più forti ma oggi veramente abbiamo pensato di non essere meno forti di loro abbiamo giocato alla Vari completamente anzi forse superiore a loro abbiamo preso anche due pali comunque non voglio parlare dei rigori inondati non so se c'erano o meno non voglio parlare degli arbitri perché veramente oggi volevo fare un grandissimo elogio alla squadra che oggi è stata veramente grandiosa sono veramente orgulloso dei ragazzi oggi sono stati veramente fantastici fantastici non altre parole peccato veramente perché mi sarebbe veramente piaciuto andare a giocare al San Paolo di Napoli peccato è stato bello perché comunque abbiamo un po' riassaporato quel gusto della Serie A forse giocando contro una squadra di Serie A quindi ora torniamo alla nostra Lega Pro purtroppo domenica si ricomincia col Bisceglie spero veramente che appena perso 5-4-0 oggi mi sembra con la Viterbese speriamo veramente di di vincere non potrei sopportare il fatto che ce la siamo giocata contro una squadra di Serie A e poi domenica perdiamo quindi torniamo alla realtà torniamo alla nostra Lega Pro pensiamo a vincere questo campionato forza Catania sempre orgogliosi di voi ragazzi forza forza Catania continuiamo così che se giochiamo così tutte le partite questo campionato lo distruggiamo facciamo almeno 80 punti sicuro se giochiamo così tutte le partite dai cazzo